E' stata un'auto che procedeva a forte velocità nelle vie della città di Porto Sant'Elpidio ad attirare l'attenzione di una pattuglia dei finanzieri. Insospettiti dall'urgenza dell'uomo alla guida, gli investigatori hanno deciso di seguire il mezzo per controllarne i movimenti. Poco dopo infatti il sospettato si è fermato ed è sceso con fare nervoso e guardingo. Si è avvicinato ad un veicolo in sosta ed ha aperto il bagagliaio, poi ha prelevato velocemente un involucro ed è ripartito. Così le fiamme gialle, non escludendo nemmeno di essere in presenza di un furto, hanno subito intimato l'altra alla persona alla guida. Ma alla vista dei militari, l'uomo si è dato alla fuga percorrendo ad elevata velocità le strade della cittadina fermana e gettando un involucro dal finestrino. Dopo un inseguimento durante il quale il fuggitivo ha anche speronato la pattuglia, gli uomini della Guardia di Finanza di Ancona sono riusciti ad interrompere la folle corsa. Recuperata la droga lanciata, i militari hanno rinvenuto due panetti di cocaina purissima. Invece nell'auto in sosta è stata trovata una valigia contenente 18 panetti di sostanza stupefacente. In totale sono stati sottoposti a sequestro oltre 21,5 kg di cocaina, un quantitativo tra i più rilevanti sequestrati negli ultimi anni nelle marche. Basti pensare che una volta immessa sul mercato la sostanza avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. L'uomo, un albanese residente in Italia, è stato arrestato per traffico di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale ed è stato condotto nel carcere di fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Considerati il quantitativo e la modalità di occultamento, gli inquirenti non escludono che la droga fosse destinata a piazze di spaccio diverse da quelle del comune di rinvenimento.